Ufficializzata dal Consiglio dei Ministri la data delle prossime elezioni amministrative. Si voterà per quanto riguarda il nostro comprensorio anche a Paternò e Santa Maria di Licodia. Il primo turno delle comunali si svolgerà il 12 giugno, medesima data anche per il referendum sulla giustizia. Secondo turno invece previsto per il 26 giugno. La Regione si dovrebbe uniformare a queste disposizioni. A Paternò è in corsa per la sindacatura Franco Crupi, il primo cittadino uscente Nino Naso, che proprio domenica presenterà la sua candidatura e le liste che lo sostengono. Maria Grazia Pannitteri, Alfio Virgolini, a Santa Maria di Licodia di Ufficiale c'è solo un candidato, l'ex presidente del Consiglio Comunale Giovanni Trischitta. Dovrebbero essere della partita ma non sono ancora pervenute, ufficialità nel merito. L'attuale assessore Gabriele Gurgone che raccoglierebbe il testimone dal sindaco uscente Totò Mastroianni e l'attuale consigliere comunale, già presidente del Consiglio, Pippo Nicolosi. Pare quasi certa la candidatura di Giovanni Butto, attuale presidente del Consiglio Comunale, mentre non avrebbe ancora sciolto la riserva, se far parte della partita o sostenere Butto, Mirella Rizzo. Ai blocchi di partenza potrebbe presentarsi anche Enrico Caruso, già assessore comunale, figlio di un ex sindaco, Vincenzino Caruso.